Continuiamo il video di ieri sera, ieri sera abbiamo parlato di Antonio Conte vicino al Milan, una ratifica che non è ancora stata messa a nero su bianco, ma Ibrahimovic ha un ruolo cardino, un ruolo importante nella scelta del prossimo anatore, il nome caldo, il nome per il quale molti detti lavori parlano già di accordo è proprio il nome di Antonio Conte. Abbiamo detto ieri, secondo quanto ci risulta, il Milan cardinale avrebbe dato l'ok, Ibrahimovic avrebbe convinto della bontà del progetto rosso-nero che ci saranno investimenti importanti, e manca solo la firma, manca solo l'accordo ufficiale, ma Antonio Conte sarà, secondo tanti, il nuovo anatore del Milan. Però, c'è un però, perché nel frattempo abbiamo abbandonato il tema arabi per dare precedenza al calciomercato, c'è un però perché questo calciomercato è un calciomercato davvero povero per il Milan. Non ricco di colpi, a meno, non ricco di colpi come si aspettava Stefano Pioli. Stefano Pioli che aveva chiesto un difensore centrale, aveva chiesto un centrocampistalla, che sì, un incontrista. Il Milan che ha meno di clamorosi colpi last minute. In questo momento ha regalato solo il rientro di Gabbia, che sta facendo comunque complessivamente bene, ha regalato Terraciano, che nell'ultima partita non è brillato, e quindi Stefano Pioli che non può considerarsi soddisfatto del mercato. Ormai Stefano Pioli, come anticipato ieri, sfiduciato dal club. Quindi possiamo dire che si sta aspettando solamente il finale, la fine della stagione per salutarsi. Spero che questa notizia che sicuramente circola, circolerà anche a Milanello, venga in qualche modo considerata poco dai giocatori. Spero che venga anticipata da tutte le parti in causa la professionalità, perché comunque il Milan si gioca la qualificazione in Champions League per la prossima stagione, quindi il piazzamento dalle prime quattro, ma soprattutto può entrare nella storia questa squadra provando a vincere, vincendo l'Europa League. Quindi spero che venga messa la professionalità sempre prima di tutto. Questo comunque me lo auguro sempre, visto i grandi ingaggi che percepisco, soprattutto perché sono dei professionisti. Calcio mercato povero, però potrebbe essere un segnale. Potrebbe essere un segnale perché? Perché intanto il Milan non vuole sbilanciarsi su nuovi colpi, l'anno prossimo cambierà l'allenatore, quindi il Milan in questo momento con il rientro prossimo ormai dei difensori centrali sta recuperando man mano tutti i componenti della rosa, perché il Milan, ricordiamo, non ha Calulu, non ha Tomori, non ha Chao, quindi in difesa comunque rientra e sarebbe un reparto anche folto, un reparto ricco di giocatori. A centrocampo il Milan ha perso Radekrunic, è vero, ma ha dato più spazio ad Adli, rientra anche Ben Nasser, quindi abbiamo Musalov, Toothchik sulla destra, abbiamo Adli, Reinders, abbiamo Ben Nasser e quindi secondo la società il Milan può arrivare fino alla fine con questo pacchetto di giocatori. Quindi il Med Nasser potrebbe incidere molto l'anno prossimo sul fatto di scegliere giocatori a lui funzionali, quindi Antonio Conte è secondo fonti questo interessamento il Milan per Zilischi, Zilischi che vorrebbe cambiare area e non vuole restare a Napoli, sembrava essere dirottato verso l'Inter, ma l'arrivo, l'ipotetico arrivo di Antonio Conte potrebbe cambiare le sorti, quindi potrebbe portare il centrocampista polacco del Napoli a colpo zero al Milan, sarebbe sicuramente un colpo molto molto interessante. Detto questo, oltre al fattore Conte, ricordiamoci, Cardinale è denoto a tutti alla ricerca di soci di minoranza che nel medio-lungo periodo potrebbero diventare subito soci di maggioranza. Quindi la cessione del Milan, di un pacchetto azionale del Milan per liquidare Elliot, quindi per anche destituire dal proprio ruolo Cardinale, da destituire dal proprio ruolo Scaroni e Furlani potrebbe incidere anche su questo mercato, nel senso che il Milan sta cercando dei soci, Cardinale sta cercando dei soci, qualora questi soci entrino in una società, verrebbe liquidato Elliot, per cui i tassi di prestiti sono molto alti, quindi gli interessi continuano a salire, quindi verrebbe sostituito Scaroni, verrebbe sostituito Furlani con nuove figure e entrerebbero in società nuove persone, nuove persone che poi avranno il potere decisionale anche di condurre il mercato, anche di condurre quello che saranno le nuove strategie commerciali, tecniche, quindi a 360 gradi del Milan. Ecco perché questa situazione un po' paralizzata del Milan, del calciomercato, il nuovo allenatore, la società che potrebbe cambiare nuovamente organigramma e quindi un mercato, un mercato povero, un mercato paralizzato, sperando presto nel rientro, nel recupero, a pieno regime dei rossi difensori, perché il Milan secondo me ha pieno organico, in Europa League può dire sicuramente la sua e l'ha dimostrato in Champions League nel girone dove nonostante non siamo passati, comunque il rendimento è stato sempre all'altezza di grandi club europei.